Buongiorno, archiderio di Mirosola, archiderio di medicina per l'anima, il libro, archiderio, storia e personaggi di questa edizione, ormai sapete tutto, compratelo, leggetelo, fate una buona recensione su Amazon. Ecco, questo è fiorito uno dei miei ibridi, dei miei vecchi ibridi, questa qui è la di Pozzi e la Gioconda, sarebbe un ibrido tra l'H3 a Maxima, Alba, per l'H3 a Guatemalensis, un libro che ho fatto, boh, trent'anni fa. Allora, oggi voglio parlare, oggi, 13 dicembre del 2008, sono già passati otto anni, è morto Marcel Lecouf, in Francia era conosciuto come le pap des orchidees, il papa delle orchidee, ma veramente lui era una cosa fenomenale, è stato uno dei più grandi personaggi delle orchidee al mondo. Lui era talmente famoso che la sua azienda era considerata il settuario delle orchidee e la gente ci andava in pellegrinaggio, perché lui aveva una collezione di angrecoidi unica, perché lui era stato parecchie volte in Madagascar e aveva importato tantissimi, era praticamente l'unico a avere una collezione così di orchidee da Madagascar, perché collaborava con due grandi botanici francesi, Peirot e l'altro come si chiamava? Adesso mi verrà in mente, e grazie a loro ha potuto importare tantissime orchidee dal Madagascar, aveva delle serie magnifiche. Graziano Marongio, un altro grande personaggio, ha lavorato tantissimi anni da lui come capo, come portava avanti lui le serre, cioè l'abbraccio destro di Marcel Lecouf, ci sono tantissimi bellissimi episodi di Marcel Lecouf, uno di questi è quando era in Madagascar, lui andava a raccogliere le orchidee in foresta, stiamo parlando degli anni 60, e ha trovato una bellissima Grammangi salisi, è un grecoido di Madagascar, e le Grammangi, come diverse altre orchidee, vivono in simbiosi con le formiche. Se andate sul dizionario, digitate simbiosi, vi dice che la simbiosi è un'associazione tra due individui reciprocamente vantaggiosa. In questo caso le orchidee offrono ospitalità alle formiche, fanno abitazione per le formiche, e in cambio le formiche, perché sono quelle formiche cattive, tengono lontani tutti gli erbiboli, nessuno viene a mangiare quelle piante lì, perché ha un paura di queste formiche, che sono piccolissime, ma sono un casino e sono molto cattive. E allora, a raccosto questo bellifico, un esemplare magnifico di Arangi salisi, era pieno di formiche, di Grammangi salisi, era pieno di formiche. Era un po' un casino portarla in giro, perché era appunto continuamente delle formiche. Quando è arrivata la capitale di Madagascar, hanno disinfettato la pianta con un potentissimo insetticida, più volte, ma le formiche erano sempre lì. Alla fine doveva prendere l'aereo, ha detto, probabilmente le formiche non volevano che la Grammangi lasciasse Madagascar, e allora l'ha legata sull'albero dell'agro lì vicino all'aeroporto, in modo che restasse lì con le sue formiche. Due, è stato uno che ha salvato tantissime piante dell'estinzione, tantissimi angrecoidi, tra cui uno dei più importanti è l'angrecoum logicalcar, l'angrecoum con lo sperone lungo di tutto e degli speroni lunghi 40 centimetri. Ma è stato veramente un grandissimo personaggio. Io sono felice di averlo conosciuto. È morto a 103 anni il 13 dicembre del 2006, praticamente otto anni fa. E c'è una cosa che mi piace dire, nel 2006? Nel 2024? Ah, nel 2016, no, nel 2016, otto anni fa, guardate, di questi tempi qua, sono un po' tra la stacchezza e tutto. Vabbè, comunque, Marcello e Cor, trovate tanto, se andate in Inter, trovate tanto, ha scritto dei bellissimi libri. Se sconoscete poi i francesi, sono veramente belli. È un grandissimo, 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 uno dei più grandi personaggi che ho conosciuto. Non era grande, perché la struttura era piuttosto piccolino, piccolino, magrolino, ma era veramente un grandissimo delle orchidee. Ok, a domani. Grazie a tutti.